Per un attore formarsi è fondamentale, cioè nel senso studiare, avere un posto come l'Accademia Artisti dove approfondire quello che è il lavoro dell'attore, non pensiate soltanto di apparire o di avere un livello estetico che permette di andare a fare delle trasmissioni o fare piccole apparizioni in televisione, no, il lavoro dell'attore è una cosa fondamentale e seria da approfondire come appunto suonare il proprio strumento come lo fa un chitarrista con la chitarra o un pianista con il suo pianoforte, quindi avere un bagaglio di esperienza di vita e avere anche una tecnica che vi permetta poi di concentrarvi appunto perché la concentrazione è importantissima e di capire quanto è importante osservare e ascoltare e collaborare con gli altri attori o sul palco o davanti a una telecamera. Quindi la formazione è fondamentale perché comunque capiterà di lavorare in varie situazioni non soltanto come piccoli ruoli ma anche poter interpretare dei ruoli in palco scenico quindi in diretta con il pubblico e l'importanza appunto di avere una conoscenza del proprio strumento e approfondire certi punti per quanto riguarda la voce o il comportamento e ricitare con tutto il corpo. Quindi l'Accademia Artisti è un luogo dove ci sono dei grandissimi professionisti che insegnano che fanno stage, che intervengono. Vi consiglio assolutamente di avere un posto come l'Accademia Artisti dove esercitarsi e mettere in discussione tutto quello che è il vostro background per poter fare gli attori. E inoltre l'Accademia Artisti è l'unico posto che lavora a livello universitario dove appunto il presidente scientifico è una nostra grande colonna del cinema italiano il dottor Pupiavati. Mi permetto di dirlo perché per me è un onore anche solo nominarlo. E quindi io quello che dico è importante è avere un luogo come l'Accademia Artisti dove mettere in discussione tutto e avere dei buoni riferimenti con tutti i grandissimi artisti che intervengono e che insegnano qui per la formazione perché il lavoro dell'attore è una cosa molto seria. E ringrazio di avermi invitato e vi ringrazio di aver creato un posto come l'Accademia Artisti.